Scontro diretto e interessante al Comunale di Capistello fra due 11 che cercano la svolta della stagione e tre punti di tranquillità in un match decisamente umido e tattico. L'avvio è lento, quasi compassato e per assistere a qualcosa di apprezzabile bisogna arrivare a metà tempo quando sugli sviluppi di un tiro d'angolo per i locali Mastroianni si avvita e pizzica la faccia superiore della trasversale. Marsicani compassati ma abbastanza efficaci anche nei minuti seguenti quando pure di Virgilio prova a fare la sua parte ma cicca l'impatto con il cuoio al 27esimo. Poi alla mezz'ora rimpianti griffati Mastroianni quando l'ennesima inzuccata del puntero va a centimetri dal palo. Il gol sembra nell'aria ma nel momento in cui si materializza ha i colori arancioni negli ospiti e cade al 43esimo quando Evangelista imbecca Trento letale nella conclusione che sbilancia le sorti del match almeno sino ad un secondo tempo di difficile lettura visto che il paterno sembra faticare a trovare la chiave di volta tanto da rischiare all'undicesimo quando sugli sviluppi di un tiro d'angolo ancora Trento si rende pericolosissimo anche di testa. Con l'andare dei minuti però il paterno sembra prendere le misure all'undici Adriatico e si palesa finalmente al 27esimo quando Mercogliano prova dalla distanza ma non trova lo specchio. 37esimo Schiphol al cross Erasmus in panica e fa correre un lungo brivido freddo al proprio portiere. Poi dopo pochi frangenti Mastroianni ci riprova di testa e questa volta il Pertugio è trovato così come il pari paternese. E i ragazzi di Torti cominciano a credere anche nel colpo grosso solo che proprio in chiusura sono gli ospiti a provarci di nuovo quando Petito carica e mette a dura prova il giovane Ranalletta che risponde alla grande. È l'ultima occasione del match alla fine il pari accontenta tutti o nessuno? Mister Del Gallo un pareggio prezioso ma come dire ci avevate fatto l'idea ormai? Beh sì la partita sembrava ormai incanalata verso il risultato maggiore peccato per quel gol alla fine perché diciamo che l'abbiamo contenuti bene e abbiamo preso un unico tiro in porta reale verso il nostro portiere e niente va bene così il pareggio alla fine ci può stare e mi è piaciuta tanto la squadra per come è stata in campo per il piglio che ha avuto e dobbiamo continuare in questa maniera. È stata una partita tattica non bella? No sicuramente non bella però noi abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo dove abbiamo messo in grandissime difficoltà secondo tempo l'abbiamo contenuti probabilmente siamo abbassati un pochettino troppo però ripeto nell'unico vero tiro in porta che hanno fatto abbiamo preso gol. Mister Torti una partita ripresa per i capelli? Ripresa per i capelli anche se il risultato di varietà penso che sia il risultato più giusto anche perché noi abbiamo sforzato più di una volta di pareggiare loro sulla prima occasione che hanno avuto sul primo tempo hanno fatto gol poi sono difesi anche abbastanza con ordine però penso che poi alla fine il risultato di parità sia il risultato più giusto.